Perfetto, grazie Alessandra De Stefano e Stefano Garzelli. Proseguiamo con la pallavolo, la Thailandia non ferma e le azzurre del volley ai mondiali in Giappone. Settima vittoria su sette gare per le ragazze terribili di Davide Mazzanti che dopo la giornata di riposo affronteranno prima la Russia campione d'Europa e poi gli USA. Vediamo il servizio di Maurizio Colantoni. Scorrono le ore tra le bellezze di Osaka ed è il giorno di stop prima di tornare in campo per le ultime due sfide della seconda fase. Sette vittorie su sette gare e obiettivo della nazionale essere tra le migliori sei del mondiale giapponese. È una bella Italia, un'Italia vincente e sorridente che vuole andare fino in fondo. Difese e attacchi, muri e eise per questa giovane nazionale che ragiona però da grande. Tutte protagoniste assieme, tutte vincenti assieme. Come racconta Mirian Silla, schiacciatrice nata a Palermo, origini gorgiane, stella di un'Italia multietnica. Sì, siamo belle in campo perché è cinque mesi che lo stiamo preparando e quindi spero si veda tutto quello che abbiamo sofferto, tutto il sudore, le lacrime e tutto frutto del lavoro fatto in questo periodo insomma. E poi il CT, Davide Mazzanti, bravo a trasferire la sua mentalità vincente alle ragazze azzurre. Dal 2017 il nazionale vuole realizzare un sogno, un passo alla volta però. Ora serve un punto per trovare l'accesso alla fase successiva e di fronte all'Italia ci sarà la Russia, campione d'Europa. È una partita fondamentale per la qualificazione. Credo che la forza dei ragazzi in questo momento sia proprio il fatto di restare concentrati sul gioco e senza calcoli, senza niente, saremo chiamati ancora una volta a mettere in campo questo. E allora con il contributo della grafica vi ricordiamo anche l'appuntamento con le azzurre del volley, campionati mondiali di pallavolo femminile, fase a gironi su Rai 2, alle 9 del mattino Italia-Russia, domani mercoledì 10 ottobre. Grazie 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 Grazie